E ora la sessantaseiesima giornata dedicata alle vittime di incidenti sul lavoro. Nelle marche calano gli infortuni, ma aumentano le morti. Stamani ad Ancona la celebrazione con la lettura del saluto del Presidente della Repubblica Mattarella al Palazzo del Popolo. Ci informa Annalisa Serpilli. Gli infortuni sono in leggera diminuzione rispetto al 2014, ma sono in aumento le malattie professionali. Questa è l'analisi dell'ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro. Oggi è la sessantaseiesima giornata nazionale dedicata alle vittime degli incidenti ed è stato il momento per una riflessione su questo fenomeno. Nel 2015 ci sono stati in provincia 15 morti da infortuni da lavoro e rispetto alle 7 dell'anno precedente. Quindi un aumento enorme. E questo è un altro punto di riflessione rispetto al quale l'INAIL e tutte le istituzioni che partecipano alla partita della prevenzione dovranno fare una riflessione. Soprattutto per quanto riguarda la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro. I primi 6 mesi dell'anno ci dicono invece che diminuiscono le denunce per infortuni, ma aumentano i casi di morte. In 6 mesi parliamo di quasi 11.000, con una flessione di oltre il 3% rispetto all'anno prima. Le morti fino a giugno invece sono state 26 contro le 22 totali del 2015. L'iniziativa è stata celebrata in tutte le province italiane, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del Senato, della Camera e della RAI, con la media partnership della TGR. Queste le immagini della giornata d'Ancona, Palazzo del Popolo, a cui hanno partecipato le più alte cariche cittadine e alcuni parlamentari marchigiani. La provincia, con più incidenti mortali, denunciati e Ancona, con 10 vittime contro le 5 dello scorso anno, seguono Macerata, 9 decessi, Pesar Urbino 4, Fermo 2 e Ascoli 1.